La corsa elettorale per la presidenza della Regione Puglia entra nel vivo, ancora di più dopo la pubblicazione del sondaggio Ipsos, commissionato dal Corriere della Sera, che racconta di un distacco minimo nelle intenzioni di voto tra i due principali competitor. Raffaele Fitto, candidato per la coalizione di centrodestra, raccoglierebbe il 41% dei consensi, mentre l'attuale presidente Michele Emiliano, alla guida di una coalizione composta da Partito Democratico e altre 14 liste civiche, si ferma al 39,4%. Più indietro la candidata dei Cinque Stelle, Antonella Laricchia, con il 15,6% dei consensi, mentre decisamente staccato è Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva Azione Più Europa, con l'1,6%. Sotto la soglia dell'1% si attestano gli altri candidati presidente, l'ex grillino Mario Conca con lo 0,6%, Pierfranco Bruno, per Fiamma Tricolore con lo 0,4%, Nicola Cesaria, Lavoro Ambiente e Costituzione, ed Andrea D'Agosto, riconquistare l'Italia con lo 0,7%. È un testa a testa anche per i partiti, il primato se lo contendono il PD con il 18% dei consensi e la Lega che si attesterebbe al 17,5%, seguiti da Movimento 5 Stelle, 17%, Fratelli d'Italia, 12,5% e Forza Italia, 7,5%. La coalizione a sostegno di Raffaele Fitto si attesterebbe attorno al 42,2%, quella per Emiliano al 38,4%, un punto percentuale in meno rispetto al candidato presidente che si spiega con il voto disgiunto dell'elettorato grillino in favore dell'attuale governatore. L'affluenza alle urne, secondo il sondaggio della Ipsos, è stimata attorno al 55% e c'è una grande fetta di indecisi che rappresenta il 15,5% dell'elettorato pugliese. Le prossime settimane saranno decisive per il risultato delle urne.